E' domenica, è l'ultima giornata del Vela Festival, volevo prendere l'occasione per ringraziare Luca Oriani e tutti i ragazzi dello staff che hanno veramente messo in piedi una cosa stupenda dal punto di vista proprio del concetto, di avere le barche, di avere delle persone che sono amanti di barche e di cercare di catalizzare la passione intorno a questo sport stupendo. Io spero che non vi perdete la prossima occasione perché è veramente un momento per condividere per tutti noi questa passione che ci unisce.